Questi giorni a Corsetta degli Abruzzi ha tenuto banco questa tassa di soggiorno con le opposizioni che hanno attaccato la maggioranza. Oggi è stata una conferenza stampa per ribadire che questa è un'opportunità. Sì, siamo in verità contenti che finalmente il turismo sia stato messo sotto i riflettori anche dall'opposizione che in questi anni nel passato era rilegato un po' come a una cenerentola perché non è stato dato mai il valore reale che ha nell'economia questo comparto. La nostra scelta è stata una scelta politica ma fatta sulla riflessione su un'analisi soprattutto relativamente al nostro anche programma. Quindi l'analisi è stata fatta sui comuni limitrofi e su comuni regionali a noi equivalenti per popolazione, per vocazione, per opportunità turistiche. Bisogna chiarire bene che l'imposta di soggiorno non grava sugli operatori turistici che sono solo il tramite dell'imposta che viene poi versata al comune. Grava sul turista, ma io non direi che grava. È un'imposta che serve a qualificare l'offerta turistica, a dare servizi, a fare la corretta promozione e una giusta accoglienza. Nonché la manutenzione soprattutto di quelle aree e delle zone frequentate dai turisti. Ovviamente chi ha una visione o comunque chi ha gestito fino ad oggi l'imposta di soggiorno come quel serbatoio a cui attingere ogni volta che il comune era in difficoltà, quindi senza rispettare la destinazione e lo scopo dell'imposta di soggiorno, è chiaro che l'aumento la vede come aiuto. Statisticamente questo non è mai avvenuto. L'imposta di soggiorno non ha mai danneggiato le destinazioni turistiche. Quindi si può mettere una pietra su questa tassa di soggiorno e chiudere tutte queste diatribe che ci sono state in questi giorni e partire e avviarsi verso quello che è poi la realtà, cioè la stagione estiva. Stiamo lavorando sicuramente per l'estate, nulla con il discorso di iniziative, un progetto anche comune sulla tassa di soggiorno da poter estendere anche alla città, all'ATS città della costa di cui facciamo parte, che sia un progetto che abbia un valore su tutta, insomma, questa ATS e su tutti i comuni della costa.